Non avevamo neanche cominciato a recuperare due anni di pandemia da un punto di vista economico, adesso questo recupero che c'è stato durante l'estate ce lo stiamo mangiando letteralmente. La tempesta perfetta rappresentata dal caro bolletto energetiche si abbatte anche sugli alberghi, alcuni dei quali avevano appena finito di leccarsi le ferite provocate dalla pandemia. E del resto fa presente il presidente provinciale Federalberghi Guerrino Lanci, è facile capire perché. Grandi superfici perché parliamo di migliaia di metri quadrati con la necessità di tante persone che quindi hanno anche magari la tendenza a essere un po' più energivore di quello che potrebbero essere a casa propria, è una cosa normale. Non solo, ma abbiamo una serie di impianti che per obbligo devono restare sempre accesi. Ho citato l'illuminazione, ma guardo anche tutto quello che sono gli impianti di sicurezza, antincendio, diocamere. Molti di noi, la gran parte, hanno efficientato questi impianti, ma per quanto si possa efficientare, comunque il consumo energetico e di gas continua a persistere. Il comparto, come altri, affronta rincari nell'ordine del 300%. I conti energetici delle nostre società sono praticamente triplicati. E la previsione è che questa tre volte tanto rischi di diventare addirittura quattro volte tanto. Con questi costi energetici rischiamo veramente di giocarci quello che è la ripresa. Lanci individua una serie di soluzioni, impianti di cogenerazione o fotovoltaici, un tetto al costo dell'energia, organizzare a livello territoriale alcune realtà di generazione di gruppo. Idei ce ne sono tante, ma nessuna di breve periodo. Il problema del breve periodo è che molte realtà del settore decideranno di chiudere con l'arrivo dei mesi notorialmente più difficili per il turismo a Trieste da novembre a marzo, con quel che ne consegue per i dipendenti. Se noi chiudiamo, improvvisamente, il peso sul nostro sistema sociale complessivo chiaramente andrà ad aggravarsi. Secondo Lanci, per ora il problema non sembra battersi sui turisti. È però probabile che anch'essi in autunno dovranno fare davvero i conti e non si profila nulla di buono all'orizzonte. L'estate, penso ancora a questo paio di settimane, scorrerà più o meno come è trascorsa fino ad oggi. Le bollette stanno arrivando adesso e adesso le persone cominciano a far conto. Non sono preoccupato per domani o dopo domani, sono molto preoccupato nel periodo che comunque sarebbe difficile da novembre fino a marzo. Abbiamo messo in campo molte azioni di promozione insieme al Comune, insieme alla Ragione, mostre e quant'altro. Rischiamo di vedere anche questo vanificato perché le persone non hanno effettivamente risorse per poter viaggiare.